Young Signorino credo che sia un po' come una scintilla in un fienile. Non sappiamo se prenderà fuoco, se nascerà un incendio o si spegnerà, ma sicuramente in questo momento è una scintilla particolarmente brillante, perché è un po' come una stella e la sua luce è così intensa perché pura. Lui è molto giovane, fa un lavoro che è assolutamente svincolato da qualsiasi schema o preconcetto e questo credo che sia il valore più grande. Uno degli aspetti che mi ha spaventato di più però è l'odio che provoca questa sua libertà nell'esprima. Se questo è il motivo per cui ho deciso di portarlo in una galleria d'arte, per vedere quale poteva essere la risposta di un pubblico che è abituato a leggere ogni forma di contemporaneo. Perciò Young Signorino, Paolo, è venuto in galleria e ha fatto un concerto. Mi ha stupito molto la lezione dei pluricinquantenni che con il telefonino entusiasti si sono messi a filmare e applaudire la performance. Questo ti fa capire che non solo c'è comprensione ma che è possibile creare un ponte generazionale. Questa scultura è un po' la rappresentazione dove vediamo il passato che si fonde e si lega con i simboli del presente e lo scopo non è quello di portare i giovani verso il passato per fargli vedere quanto era importante ma deve aiutare noi a vedere e a comprendere il futuro.